E salve cavallieri oscuri, benvenuti a questo nuovo episodio di Super Mario Advance Con Todd a fare l'ultimo livello dell'aria col boss Che molto probabilmente raga, questo è l'aria del boss Non farò due parti Colpa mia Purtroppo Todd non ha la taba come gli altri Che può rimanere sospeso ecco Quindi direi che ho fatto bene la figlia di Todd per questo livello, così che rende il livello un po' più difficoltoso per me Proprio quando si dice rovinarsi la vita E si vabbè No Si può sapere che ha messo quella cascata lì Ma la fine è che questo livello Do le peggiori sfuriate Ma veramente eh Che io raga non sono uno che si arrabbia Però per un livello così Direi che mi potrei arrabbiare giusto un pochino Dai Todd Poi capisco perchè non sei stato in Super Mario 64 No vabbè raga mi ha beccato un pezze Sono morto per colpa di un maledetto pezze Ma siamo seri? Ma siamo veramente seri? Morto per colpa di un pezze Ma questa è la cosa più ridicola che poteva capitarmi Comunque ve l'avevo detto Che probabilmente questo livello l'avrei fatto In due parti Oh almeno con Sonic raga non muoio così tanto Piuttosto finisco i livelli più volutimente Ok Ora Con calma Va bene Perfetto Allora Il boss è qui sotto E io purtroppo Non devo andare sotto Devo andare sopra Perchè La porta è chiusa È chiusa la chiave Purtroppo però ci sono queste Che cavolo di palle elettriche Travato per un soffio Ehm Toad Perfetto 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 Ok, adesso sono stato attento. Non devo assolutamente farmi beccare della quale sparellezze, come le dette. Questa cosa è abbastanza ridicola, deve essere divertente. Vero? No, meno male, meno male, meno male non ho perso la crescita, per fortuna. Aspetta un attimo, eh. Ah, ecco fatto. Ok, chiave presa e via, i master mi seguono. Geronimo. Via, 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 via. Non sono tanto... Tanto... Venuti. Non è male. Vai. E... E... Ecomi qua. Ah. Mi è rimasta una vita, eh. Perché sarà da questo punto. Comodo quando hai computer. Veramente comodo. Usate monete ma non ho tempo. Oh, il ritorno. Nooo. No, 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 no. Ristalt. Tu frey. Ok, ragazzo. Posso farsela? Ok, che questo gioco non l'ho mai finito da computer. Ma sul Game Boy sì. Devo solo concentrarti. Devo solo concentrarti. Dai, cammino, raga, arriva il boss e poi... E poi direi che... E direi che... Ora io ricarico la partita. E l'episodio lo voglio finire qua. Veramente. Ok, raga. Se vi è piaciuto... Questa serie di morti... Con questo fungo... All'utinogeno... Lasciate un like... E per favore un commento... E alla prossima, capelli oscuri.